Ciao a tutti, sì, è confermato che ho il coronavirus, molti ormai lo sanno già, se non lo sapete ve lo dico ora, mi state scrivendo in tanti, vi do un paio di informazioni specifiche sulle stories. Io sto meglio, dopo un periodo di cura abbastanza forte, mi sto riprendendo, ma non allarmatevi, non è la norma, io l'ho preso più forte per sfiga, in realtà dovrebbe passare sempre come una normale influenza. Ma noi non ci eravamo visti un po' di tempo fa, è possibile, ma se è così, se ci siamo incrociati nel periodo in cui ero potenzialmente contagioso, ti ho già scritto e nel caso quando l'aslam mi ha fatto avere l'esito del tampone, ti ho segnalato. L'ho scoperto soltanto ieri che ero positivo al tampone, ma sono in quarantena già da quasi due settimane, quindi è molto improbabile che io abbia contagiato tante persone, quindi state tranquilli. Avete l'influenza e volete fare il tampone? Rassegnatevi, è molto improbabile che lo facciate se avete solo l'influenza, dovete avere anche un contatto diretto. Io sono riuscito a farlo solo perché poi alla fine ho sviluppato una polmonite e sono finito al pronto soccorso, quindi il tampone è molto raro. Ma com'è questa situazione in generale del coronavirus? Allora, non sono uno scienziato, non posso darvi dei dati scientifici e credo che ci sia molta confusione anche sui media ufficiali, quindi è un po' presto per tirare delle somme. Però vi posso dire che in questo momento il problema è il sovraccarico sugli ospedali, è per questo che non fanno tanti tamponi, è per questo che appena avete un sintomo influenzale vi dicono di stare a casa, è per questo che vi rompono le scatole sull'igiene e sulle norme di sicurezza. Cercate di rispettarle, il virus si diffonde velocemente perché è molto contagioso, io stesso non so da chi l'ho preso, non ho collegamenti diretti, non posso indicare nessuno. Quindi questa cosa dice già che è in giro da prima del paziente 1, io stesso ho manifestato i primi sintomi prima del paziente 1. Questo vuol dire che è passato sotto radar all'inizio e che probabilmente la diffusione c'è già stata e tante persone probabilmente l'hanno già passato come una semplice influenza. Non è da panico, è un buon segno, vuol dire che il 90% dei casi vanno via lisci. Il problema è appunto cercare, adesso che ne siamo consci, di evitare di stare tutti al pronto soccorso, bombardare i medici e fare i fenomeni andando in giro con i sintomi della febbre. Quindi state attenti insomma e cercate di fare la vostra parte su questo. Insunto quindi ai soldoni. Quindi rispettate quello che vi viene detto, lo so che è una rottura di cazzo starsene chiusi in casa, lo so che tutti i negozi chiusi fanno un sacco di disagi, però per non gravare su quelle persone più deboli è la cosa migliore da fare, anche quando avete il minimo sintomo dell'influenza. Se il vostro datore di lavoro non vi supporta, cosa che non è impossibile ma ho visto persone che comunque sono molto disponibili, rivolgetevi al vostro medico di base. Davvero il medico di base se appena sa che avete una mezza febbre vi lascia a casa una settimana. Quindi puntate su quello almeno per cercare di non essere parte della diffusione. E non andate in panico, appunto a parte rari casi, tutto fila liscio senza problemi, insomma fate un po' attenzione a queste cose. Me ne vado, spero che alla fine della quarantena mi vogliate ancora salutare e dare un abbraccio. Addio. Addio. Addio.